Con decreto firmato dall'assessore all'istruzione della regione siciliana è stato approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno 2024-2025. A Belpasso, in particolare, gli istituti comprensivi saranno tre. Uno di questi è il nuovo istituto comprensivo statale Nino Martoglio. In occasione delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, la dirigente ha organizzato un Open Day per presentare l'offerta formativa. La scuola dell'anno 2024-2025 diventerà istituto comprensivo per cui verticalizzerà. Avremo la possibilità di accogliere i bambini della scuola dell'infanzia e di accompagnarli fino al 14esimo anno di età, quindi alla fine della scuola secondaria di primo grado. Questa per noi è una grande occasione, un grande privilegio, ma è anche una grande opportunità per i ragazzi di poter seguire un percorso progettuale anche, un percorso di crescita didattica nello stesso plesso scolastico, nella stessa istituzione scolastica. Oggi abbiamo voluto presentare l'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado con tutte le innovazioni che in questi anni hanno contraddistinto il piano dell'offerta formativa dell'Enino Martoglio. È un'offerta formativa arricchita soprattutto delle competenze informatico-digitali e delle competenze linguistiche. Questo passaggio di istituto comprensivo per quelli che sono già studenti di questa scuola cosa comporterà e per quelli che invece saranno in futuro studenti di questa scuola? Per gli studenti di questa scuola è senz'altro un arricchimento perché avere a che fare anche con ragazzi più giovani, ragazzi più piccoli, insegna la reciprocità, insegna anche la cittadinanza attiva nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e dei bambini più piccoli della scuola primaria. benché l'ubicazione degli altri ordini di scuola sarà in altri plessi scolastici, ci saranno senz'altro dei progetti trasversali e quindi dei momenti di condivisione anche per fasce di età differenti. Per invece i nuovi iscritti, sia all'infanzia che alla primaria, sarà un tempo di novità e di grandi occasioni di condivisione, di pratiche già consolidate, già realizzate con alunni più grandi dai quali avranno molto da apprendere e tanto dato esperienziale da incamerare. Quali sono gli step che porteranno alla conclusione di questo passaggio a istituto comprensivo? Allora l'iter sicuramente sarà entusiasmante però per certi versi anche un po' complesso perché il territorio naturalmente non è abituato ad un'offerta formativa diversificata su due istituti comprensivi. Fino all'anno scorso la scelta era univoca e quindi gli step sono innanzitutto di grande relazione, condivisione e anche di dialogo democratico con il territorio per poter comprendere quelle che sono le necessità non dico di ciascuno ma sicuramente del maggior numero possibile di utenti e insomma la scuola, in modo tale che la scuola possa offrire un servizio che sia condivisibile da una fetta importante del territorio belpassese. Grazie a tutti.